Isola pedonale sì, ma con parcheggi per raggiungere il centro. Il ritornello è unanime e antico nel capoluogo di regione da parte dei commercianti e dei cittadini. Il dibattito in corso tra l'amministrazione comunale e gli esercenti e i rappresentanti di categoria è ancora vivo a stagione partita. I nodi da sciogliere sono diversi a partire dai parcheggi per i residenti, per i cittadini e soprattutto per le ditte della ricostruzione. Praticamente di fatto già esiste un'isola pedonale perché la mattina qui non trovate posto. La ricostruzione che deve andare avanti blocca tutti i parcheggi, quindi di fatto già esiste. Istituire un discorario così c'è un ricircolo di auto, invece in questo modo le macchine che vedete parcheggiate alle 8 da mattina le ritroviamo fino alle 6 da sera. Il centro può diventare attraverso l'isola pedonale il vero salotto della città, soprattutto per le famiglie. Per noi giustamente l'isola pedonale sarebbe bellissimo perché le persone potrebbero giustamente circolare e naturalmente per le attività che ci sono al centro andrebbe benissimo. Può essere molto utile perché così abbiamo un modo di essere anche noi più operativi e avere anche la clientela molto più tranquilla. Soprattutto se non ci sono macchine che passano di continuo anche le famiglie possono sicuramente passeggiare molto più tranquillamente appunto perché insomma con i bambini è sempre magari un po' pericoloso e quindi sarebbe un'ottima cosa soprattutto perché siamo in un centro storico e dovrebbe essere così come in tutte le città. L'orario in cui istituire l'isola pedonale cittadina divide i commercianti. Dalle 18 no no va benissimo va benissimo che quando comincia il momento del passeggio della gente le famiglie anche i bambini possono girare in maniera molto più tranquilla. L'idea è ottima solo che deve funzionare realmente perché noi che abbiamo i tavoli proprio di fronte al locale le macchine passano non so se siano autorizzate o meno ma come se l'isola non esistesse. L'isola pedonale auspicata dai visitatori della città è difficile senza un piano segnaletico e mobilità sostenibile come rilevano gli stessi turisti. Dovrebbero essere estese ma parallelamente servite da servizi pubblici, da navette, da bici elettriche, da mobilità lenta. E allora il turista ha modo di frequentare e di vivere il centro storico in maniera adeguata e se no adesso si trova che siamo andati a vedere le 99 cannelle, tutte le direzioni ci danno a un certo punto è sparita e ci siamo trovati quindi segnaletica da migliorare e viabilità lenta da migliorare a favore.